In un passo del Vangelo di Luca Gesù si definisce medico. A dire il vero è un passo unico ed è una definizione davvero unica ma interessante. Gesù si definisce medico in senso spirituale, diremmo, ma è interessante il contesto nel quale parla così di se stesso. I farisei e gli scribi avevano avuto qualcosa da ridire riguardo un convito al quale Gesù aveva partecipato. Avevano posto una domanda, come mai Gesù mangia con i peccatori, con i pubblicani, con gente insomma che non aveva una buona reputazione. E il Signore Gesù risponde non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. E poi spiega io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Sano sarebbe chi si reputa giusto, ammalato sarebbe chi Gesù definisce peccatore. E' interessante un primo aspetto. Nessun paziente è in grado di emettere una diagnosi riguardo il proprio stato di salute. Si ha sempre bisogno di un riscontro oggettivo, di una persona terza, competente, il medico. Non siamo in grado di stabilire la nostra santità, giustizia. Non siamo in grado di stabilire quanto noi abbiamo o non abbiamo bisogno di Dio. E il medico afferma, cioè Cristo, che tutti abbiamo bisogno della salvezza. Scriverà Paolo non vi è un giusto neanche uno. E scrivendo quel versetto di fatto riporta un brano dell'Antico Testamento, il che vuol dire che tutta la Bibbia afferma che ogni uomo è un peccatore e che ogni uomo ha bisogno della salvezza. Un secondo punto fondamentale riguarda appunto la competenza del medico. Chi, se non Gesù, è il Salvatore? Chi, se non Gesù, è in grado di guarire, non curare? Le malattie si possono anche cronicizzare, ma lo stato di peccato non va né sopportato, né si può convivere con la separazione da Dio. Cristo guarisce, non cura. Ed egli guarisce con il farmaco portentoso che soltanto lui è in grado di provvedere, anzi che lui ha comprato, acquistato, e cioè il suo sacrificio. Chi crede in me, disse Gesù, ha la vita eterna. Pertanto proviamo. E proviamo non vuol dire tentiamo, vuol dire facciamo. Facciamo sì che per ognuno di noi Cristo emetta la sua diagnosi, ma è chiara, la diagnosi è quella ferale, una malattia senza cura, ma che si può guarire, che può guarire il medico. Io son venuto, non per i giusti, ma per i peccatori. E questa è la terza stupenda notizia. Il medico c'è, il medico è venuto, il medico è pronto. Il medico è Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Il medico è Cristo Gesù, Il Figlio di Dio, Grazie a tutti.